Filippa Lagerbak Filippa Lagerbak, giallo sulla foto con Daniele e promessa sulla riservatezza Filippa Lagerbak si svela, il giallo sulla foto con Daniele e la promessa sulla riservatezza. Filippa Lagerbak non riesce ancora a credere a quello che sta capitando a lei e al suo Daniele Bossari. Dopo il trionfo del suo compagno al grande fratello Vip infatti la sua gioia è incontenibile e contagiosa, aggettivo più volte usato dai suoi seguaci su Instagram. . E a proposito di Instagram, nelle ultime ore la svedese ha postato una foto, qui sotto, dalle mille e una notte in compagnia di Daniele. . Uno scatto che è diventato un giallo, addirittura pare che ne abbia simpaticamente parlato Luciana Littizetto in radio. . Come è potuta essere stata fatta una foto del genere? In tantissimi infatti si sono chiesti chi abbia potuto essere l'artifice di uno scatto così difficile e insolito. . . Filippa ha risolto il dubbio ed ha anche risposto a chi le ha detto che si sta esponendo troppo sui social e sta mostrando il suo amore in modo forzato. . Andiamo a scoprire tutto. . . Bossari e Filippa, Euphoria Post GF VIP, torniamo presto riservati. Partiamo dalla magnifica foto, con tanto di commento al miele della Lagerbac, probabilmente sto ancora sognando e, che sta spopolando sul web. . Quella in cui Daniele e Filippa sono ripresi dall'alto, sdraiati in un letto matrimoniale quasi favolistico. . . Tantissimi fan che hanno chiesto alla svedese chi avesse potuto fare uno scatto simile. . Tutti hanno ottenuto una risposta sorprendente, Stella, la figlia della coppia che a quanto pare con la fotografia se la cava niente male. . . Spazio poi ad un accenno di polemica a cui la showgirl ha subito messo freno. . . Un utente l'ha esortata a non farsi travolgere dal turbinio di emozioni e situazioni che la porterebbe ad abusare dei social come qualsiasi ragazzino di 20 anni. Tranqui, è un momento euforico, torniamo presto riservati, ha prontamente fatto sapere Filippa, promettendo di fatto ai fan che presto tornerà più riservata. . Le polemiche sulla Lagerbac, i precedenti. . Non è la prima volta che da quando Bossari è salita la ribalta per il GF VIP, Filippa, per il suo rapporto con i social, viene raggiunta da qualche tono polemico, che la vedrebbe troppa esposta mediaticamente. . . Come di consueto, la svedese si è sempre defilata dagli screzi, rispondendo pacatamente e in maniera molto educata, atteggiamento che gli è valso l'apprezzamento e la stima di molti fan. .